Allora, con Marco Petrini, consigliere federale della FIP, Marco, come inquadri nell'ottica di questa giornata, vale la prima azione anche il lavoro fatto a Firenze da tante società che si occupano soprattutto dei settori giovanili? Io credo che il lavoro a Firenze, dal punto di vista della quantità, sia strepitoso. Firenze rappresenta solo più del 30% dell'attività della regione ed è anche un lavoro di grande qualità. Non scordiamoci, Firenze, Pino l'anno scorso finalista Ander 19 Elite, quarta classificata, Sankat finalista nazionale Ander 15. Quest'anno molte squadre delle nostre società fiorentine, Tempepino, Sankat, Legnaia, stanno facendo bene i vari campionati di eccellenze ed elite. Quindi il movimento giovanile a Firenze è vivo, vivissimo, direi che in Toscana il movimento è vivo, più che vivo. Certo che Firenze in particolare avrebbe bisogno di un traino importante a livello della prima squadra. C'è questa tentativa della Firenze in basket e speriamo che possa avere successo.